Qui abbiamo un Giacone della linea S4, questo nuovo brand che si è aggiunto a tagli e forti luogo, sicuramente con tessuti caratteristiche naturalmente diverse. Abbiamo tessuto in quello che si chiama una lana freddo, una lana battuta, è una lana molto morbida, una lana che non pittica, non ispita, assolutamente. Ma entriamo nelle caratteristiche del Giacone. Il Giacone ha una doppia allacciatura, bottoni e cerniere. In questo caso la cerniera è una cerniera intera che diventa un discorso di un collo a cammino. La stessa chiusura al collo poi può essere finita anche questa con chiusura con bottone. Per quello che riguarda la parte delle tasche, abbiamo una tasca a pattina col controporto sotto, che deve essere una tasca a filetto volendo, e un'altra tasca a pattina anche qui, che è chiusa, quindi non riesco a metterci la mano dentro. Mi sono dedicato dentro. La parte dietro del Giacone è una parte molto pulita, una parte molto elegante, sicuramente molto bello da indossare con la caratteristica di un pantalone più elegante, ma anche da un jeans per fare sicuramente qualcosa di elegante e sportivo. L'interno del Giacone sicuramente è anche qui molto ripienito. Abbiamo queste podre in grigio, in blu, che comunque rendono particolare la cura di questa giupotto. Due tasche per quello che riguarda l'interno, una tasca molto pulita e la seconda tasca un discorso con le tasche di una cola cerniera. Per quello che riguarda la loro misura, la loro vestibilità, pigliate il vostro sapone, chiudetelo, andate a misurarlo da lato a lato, come facciamo noi, e consultate quello che la nostra tabella taglie è spessa in centimetri, così troverete la vostra taglia. Taglie forti uomo e vivi. Siamo sempre un'altra taglia parte.